Rivoluzione in farmacia, addio alla vecchia ricetta che da oggi è stata sostituita da quella elettronica. La legge che manda in soffitte i blocchetti rossi del medico è in realtà del dicembre 2015 e recepisce un decreto di più di tre anni fa. Per prescrivere un farmaco, il medico si collegherà ad un sistema informatico, lo stesso visibile al farmacista che consegnerà ai farmaci. Il dottore per ora consegnerà un piccolo promemoria da lasciare al bancone della farmacia, che permetterà di recuperare la prescrizione anche in caso di malfunzionamenti del sistema o assenza di linea internet. Quando il sistema andrà definitivamente a regime, anche questo foglietto sparirà. Tra i vantaggi della ricetta elettronica è il risparmio sulla stampa e distribuzione delle vecchie ricette rosse e il controllo sulla falsificazione delle ricette stesse o sugli abusi conseguenti il furto dei ricettari. I dottori per effettuare una prescrizione si connetteranno dal proprio PC ad un apposito portale, compilando la ricetta sullo schermo identica a quella cartacea. Un numero di ricette elettronica sarà associato al codice fiscale del paziente, aggiungendo in automatico anche eventuali esenzioni. Il sistema stampa quindi il promemoria con il quale andare in farmacia e con i dati presenti attraverso i codici a barre stampati sul piccolo foglio A5, il farmacista recupera la prescrizione direttamente online e consegna la medicina. La ricetta elettronica vale in tutte le farmacie del territorio nazionale, sia pubbliche che convenzionate, per cui i farmaci potranno essere ritirati anche fuori dalla regione di residenza. Grazie al sistema tessera sanitaria, le farmacie potranno applicare il ticket della regione di residenza dell'assistito e saranno poi le stesse regioni a scambiarsi le informazioni sui medicinali prescritti e quindi procedere ai relativi rimborsi compensativi.